La storia che forse si Allora innanzitutto Good afternoon Wanna come Wanna join discord No di nuovo Alistair Minchia l'ho già giocato sto matchup Sto una merda Può essere anche molto forte con 6.000 Però allora 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 Il fatto che sia un matchup di merda Non mi obbliga a perdere 0-7-2 Giusto? Siamo contro Jizuke Lo mettiamo subito nel titolo Massacriamo Jizuke in ranked Tra ben sì Pro player Fortissimo Italiano Secondo voi sono più forte io o Jizuke? A parte dal presupposto che giochiamo lo stesso elo E questo è oggettivo Secondo il sistema Abbiamo la unica che è simile No Jizuke è troppo forte Non ci credo che è così stupido Ma che caccio E non esce Mojizuke Così Era per ridere Va bene E' un trade Ci hanno rubato di una pozza Lui ha cringeato Ma dice che mi stoppa Cringe Ma adesso mi sembra un po' eccessiva questa ultima Allora ragazzi Mi sta piacendo questa partita Sto giocando per voi Non per me Lo faccio per voi Sono con Sparapau top Paolo sei peggio di Messina Denaro Non muoio Oh no Figlio di pittata Grazie Coglione Ai 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 Queste ward Ci hanno fruttato un bel po' Abbiamo Dps o logat Mi piace l'idea del dps Perché secondo me Li ho sciottato Però Già li ho sciottato Mi fa il dato Bell flash Compliment La cuore è più di macchia Perché non riesco a nulla Grazie Lui per me E' il mio Messi Io sono Cristiano Ronaldo Lui è la mia nemesis Il mio cerrimo nemico Lui mi ha grisso in faccia Mi ha dato del cesso Mi ha guardato all'alto Verso il basso E' stata la più grande motivazione Che io abbia mai avuto In tutta la mia vita Prima a pushare Medley Quello 1v1 L'ammazza Ma voi non avete nemmeno L'idea del disagio Che mi crea missarlo Da 1v1 a 10 7 Questo è un gran posizionamento A parte nostra Quale è la mia giocata Penso che oltre a A Ma ti rendi conto Noi un nino più che King Da 72 mesi Ho stancato un po' di colpi di torre E per un po' intendo 118 GG GG well played Quindi sono più forte io Di Gizuke Giusto? E questa è la prova Questa è chiaramente la prova Chi dice il contrario Merita la forca Aspetta devo bannare In effetti Kindred Kindred Anche Kindred Hai cambiato il destino Vediamo se lo abbanno Kindred Allora che giochiamo qua Io pensavo a Rakan Ragazzi E chi sarebbe Coacheghi Astralis Alberto Ex-Quizze No Allora proprio che Si deve sentire Ciao Deloso Uvito si parte Aggressivi Che ha avuto un posizionamento Per lo meno Discutibile Che ha avuto un po' Bye Have a great time Cura E' death Ma già Ci ho visto Si Ma un'altra abilità Per scappare Oh Dio Oh Dio Ma non c'è Muore E' giusto E' giusto Muorirà Dalla ultima Carta Un loyal di quella Mi salvavo Buono Guarda quei danni Sai che fai Vamonos Vamonos Mamma mia Come spinze Come spinze Questo palo cannone Surrakan Il piccione di Novara Veramente Devastante Ma sai che box Si Oh wow Abbiamo Mandato via Di Eìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Mamma mia Un flipper questo racconto Va ovunque Ovunque Mamma mia ragazzi Mamma mia Eccitante Eccitante Ma sì, sì, sì No Ma che caccio Mamma mia Allora che ne pensate Di questa performance Voto Voto performance Voto performance Un facile 9 Il coach di Genove